Buongiorno, vedete la ventesima volta che lo dici, insomma vabbè, mi posso mandare da piepiedi, io sono gentile. Allora vado a buttare giù la marmellata di arance dove ho già messo dentro la scorza di due arance e due limoni, ok? Ok? Poi chi lo farà solo agli agumi sono di più, chi lo fa invece questa versione qua caraibica, allora ce ne vuole un po' meno, comunque la marmellata d'arance si va sempre dentro, ok? Allora, adesso io metto dentro un cucchiaio dell'aroma panettone, oppure possiamo mettere direttamente dentro una bacca di vaniglia. Allora, io dico che adesso vi metto dentro la bacca di vaniglia, facciamo così dai, che magari è più facile che ce l'abbiate tutti. La bacca di vaniglia, ciao cagnetto, allora, aspetta un altro un po' più, sto facendo il video per i miei ragazzi, allora. Ecco poi pensate a fare la scuola, allora, bacca di vaniglia, ok vedete qua, tre bacchette. Ok, vi voglio dire, voglio specificare che mio marito non ha detto amore mio a me, ma l'ha detto a mia figlia, cioè a sua figlia, perché a me di solito non lo dice, amore mio. No, non è vero, lo dice smettila, non è vero, lo dice anche a me. Ok, adesso io darei, vediamo un po' di sprint, ok? Allora, adesso la bacca di vaniglia io la vado a buttare dentro nel contenitore dello zucchero, ok? Che così va a insaporire lo zucchero, la bacca una volta grattata. Adesso, qui bene o male la marmellata me l'ha presa, quindi adesso andrei ad inserire, comincio ad andare a mettere il bollo. Ok, andiamo a mettere il burro, se voi foste bravi a mettere già la sera prima il burro con la marmellata mescolata e con la bacca di vaniglia, ma se siete degli asinelli come me, allora, vedete, fate come ho appena fatto. Mettiamo giù, così il burro a fiocchetti da 600 kg praticamente, spettato così alla mano. Ok, adesso come ha assorbito, intanto guardate un attimo, come ha assorbito il burro, vi faccio un altro video, quando cominciamo a perdere il foscio, ah no, scusate, stavo dimenticando una cosa importante. Qua, quello che vedrete scendere è il burro di cacao, ok? Se lo trovate a natura sì, bene, altrimenti niente, grattate un po' di cioccolata bianca, che voi direte, ce ne va già dentro tanta, sì, però va a scaglie, voi magari la grattate sottile sottile e siete a posto. Se lo trovate meglio, cioè, dà anche un altro po' più di morbidezza, perché questo poi non è ricchissimo di burro, perché appunto è un divitato leggero. Beh, ci vediamo tra un paio di minuti, ciao!